L'ansietà di stare con qualcuno, cioè il bisogno ansiogeno di stare insieme ad un partner o una partner. Molte persone avvertono questa esigenza e ricercano un partner o una partner per sentirsi completi. L'ansia di stare con qualcuno, questo bisogno, questa necessità è una necessità di completamento. Una persona che dà molto valore agli aspetti relazionali è una persona che tende ad sentirsi più completa, realizzata, pagata, soddisfatta se la qualità delle sue relazioni funziona. Chi ha questa caratteristica più facilmente di altre persone tende a commettere un errore, cioè io avverto questa esigenza di completamento e che cosa faccio? Ricerco un partner perché il partner mi completa, il partner mi ama, col partner condivido e anziché chiedermi quali sono le cose, le caratteristiche di cui ho bisogno per sentirmi completo. Questo è l'aspetto importante. Se io non mi interrogo su quelle che sono le esigenze, le necessità che avverto e che in qualche modo mi farebbero sentire una persona soddisfatta, completa, allora cosa succede? Che io vado a rincorrere la traduzione più superficiale di questa necessità. questa necessità di completamento mi fa avvertire una tensione, un'angoscia perché mi fa avvertire una mancanza, mi fa avvertire che qualcosa non c'è nella mia vita e se io la traduco e può darsi che la traduca nell'esigenza di un partner, ecco, rischio di andare dietro a questa esigenza senza capire che cos'è che mi dà quel partner, che cos'è che ricerco in una relazione che mi fa sentire completo. Magari la condivisione, magari la sicurezza, l'essere apprezzati, l'essere amati. Se tutti ci soffermi su queste esigenze inizi a comprendere innanzitutto che alcune di esse non possono essere soddisfatte da un partner. È impossibile che tu possa sentirti in qualche modo una persona di valore perché qualcuno ti ama. Perché è come dire che il mio valore dipende dall'amore di questa persona. Se questa persona smette di amarmi o gli succede qualcosa, io non ho più valore. Ovviamente è una modalità che in qualche modo autoderesponsabilizza dalla realizzazione personale. Dobbiamo entrare nell'ottica che una relazione arricchisce, ci rende delle persone migliori. Se però è la relazione giusta, se non ci siamo accontentati, se non ci siamo incastrati in una situazione che in realtà non è adatta a noi. Certamente capita, succede, è inutile rimpiangere, rimproverarsi perché non sapevamo ieri quello che sappiamo oggi. Quindi può darsi che ci siamo infilati in una relazione che non va bene o addirittura disfunzionale, ma questo non vuol dire anche in questo caso che allora io mi libero del partner e improvvisamente sto bene, perché anche qui nuovamente ricorre lo stesso meccanismo. Sento l'esigenza di realizzarmi nella vita, ecco, mi realizzo se mi libero di questa relazione disfunzionale o di questa relazione che non mi soddisfa, che non è detto che una relazione che non ti soddisfa sia disfunzionale. Ma non è questa la questione, cioè tu per realizzare te stesso devi mettere dei mattoncini nella tua vita che oggi non metti. Esiste la possibilità che tu non li possa mettere all'interno di quel tipo di relazione, ma è molto importante che tu inizi a metterli nonostante quel tipo di relazione, perché nel momento in cui ti liberi da qualcuno o di qualcuno non hai costruito qualcosa, ti sei semplicemente tolto o tolta dal posto in cui eri e quindi vai a vivere un momento di riequilibrio, che può essere anche piuttosto stressante o di crisi, senza aver iniziato quel processo di costruzione personale di cui parlavo prima. Quindi fondamentalmente i processi su cui voglio che tu ponga attenzione sono quelli di non mettere all'esterno quelle che sono le risorse o i problemi della nostra vita. Costruisci lì dentro di te, cerca di condividerli con qualcuno che ti aiuta a tirar fuori il meglio. Non è una cosa semplice, me ne rendo conto, però è pur sempre molto meglio dell'alternativa, cioè quella di avere una visione in qualche modo insoddisfacente della nostra vita dove ci dobbiamo accontentare di qualcosa che ci fa stare male. Ecco, probabilmente se siamo in una visione di questo tipo, la verità è che non è che ci stiamo accontentando di qualcosa che ci fa stare male. Stiamo male con noi stessi e non ci siamo interrogati, non abbiamo capito che cos'è ciò di cui abbiamo bisogno.